Ecologia con la E maiuscola, è questo il nome scelto dai componenti di Mizzica per il dossier sulle discariche abusive di Sciacca, dossier che stamattina è stato presentato alla città e alle associazioni nell'ambito di una conferenza stampa. Si tratta di un censimento delle discariche che ci sono presenti a Sciacca, è un tema che non è mai stato affrontato nella maniera dovuta, se non singolarmente, praticamente ogni cittadino che ha un disagio segnala il problema, poi qualcuno a volte interviene, a volte no, ma il problema è di gran lunga più importante. Quindi noi abbiamo pensato in maniera, diciamo così, da attivisti, in maniera dilettantistica, da appassionati di questa città, di fare un vero e proprio dossier per far rendere conto alla città, non solo all'amministrazione ma a tutta la città, del problema. Far prendere coscienza direi ancora di più, perché credo che a Sciacca neppure si capisca l'importanza di questo, infatti vediamo sempre nascere queste situazioni di degrado continuo che peggiorano sempre. I numeri di questo dossier? I numeri sono purtroppo importanti, perché da soli noi con l'aiuto di tanta gente abbiamo censito più di 20 punti, più o meno gravi, e sono sicuro tra le altre cose che non sono neppure tutti. Purtroppo a Sciacca, ma non solo a Sciacca è giusto dirlo, non c'è un piano che preveda questo, non c'è mai stata una strategia per combattere questo fenomeno. E ancora oggi non si parla mai di questo, per cui noi stiamo dando un contributo per dire alla città tutta, ripeto, sia al cittadino che non è cosciente di fare un danno a volte quando conferisce in questi punti, sia ancora di più all'amministratore a dare delle informazioni minime affinché l'amministratore faccia un vero censimento e poi prenda dei veri provvedimenti. Delle oltre 20 discariche censite dalla periferia fino al centro abitato, almeno 8 come incontrata a Raganella, alla Foggia, Santa Maria, a Maragani per citarne alcune, hanno raggiunto estensioni di non poco conto. Non solo numeri, nel dossier Mizzica fa la sua proposta. Un piano strategico di sensibilizzazione dove il cittadino è assolutamente protagonista, un piano quinquennale, telecamere diffuse all'interno del territorio e un ampliamento dei servizi importanti come le isole ecologiche. Ci chiediamo per esempio come mai l'isola ecologica è presente alla marina in questo momento dopo mesi e mesi ancora chiusa. Questo è un sistema di proposte che economicamente si autoalimenta, cioè il buon comportamento rispetto all'ambiente da parte del cittadino ci consente di risparmiare e investire anno dopo anno queste somme risparmiate in telecamere e in sensibilizzazione. La sensibilizzazione si fa insieme alle associazioni, all'attivismo bello di questa città che se coordinato è una forza straordinaria. In materia di risparmio e soprattutto di discariche abusive ci teniamo a dire che le parole del Sindaco quando si dice che il piano aro sarà la panacea di tutti i mali non è assolutamente vero. Riguardo le discariche il piano aro dice una cosa molto chiara, al privato convengono le discariche perché questo servizio ripulito delle discariche diventa servizi opzionali, cioè servizi dove il prezzo viene computato dopo, nei periodi di emergenza, più discariche, più guadagno per il privato, più noi pagheremo una tassa salatissima. Quindi il Sindaco ha scelto di stringere sui rifiuti un patto col diavolo, noi vogliamo stringerlo con la città.